Siamo notati Gesù e Maria. Comincia oggi, fratelli e sorelle carissimi, il santo tempo di Avvento, con la prima domenica di Avvento ed anche il nuovo anno liturgico, ciclo A, in cui insieme leggeremo il Vangelo di San Matteo durante le liturgie domenicali. Questa prima domenica di Avvento inizia sotto il segno di alcune realtà su cui mediteremo insieme, che ci vengono proposte soprattutto dalla prima lettura e dalla seconda lettura. Poi il Vangelo fa un po' una sintesi. Isaia dice a nome del Signore, venite saliamo sul monte del Signore, una salita sul monte. E San Paolo nella sua lettura dice queste cose, raccomanda di non dormire ma di stare svegli contrapponendo le opere delle tenebre con le armi della luce. Attraverso la riflessione su questi due aspetti, quindi il monte del Signore e il contrasto sonno-veglia-tenebre del luce. Adesso cercheremo un pochino di capire il senso dell'Avvento. Salire il monte del Signore. Che cos'è il tempo dell'Avvento? Noi sappiamo che Gesù è venuto sulla Terra duemila anni fa con la sua natura umana. Per riconoscere la sua natura divina bisognava fare un atto di fede sulla base dei segni che Gesù faceva, perché si vedeva l'umanità di Gesù ma non si vedeva la divinità. Il Vangelo e anche il credo ci ricordano che Gesù tornerà nella gloria alla fine della storia e allora tutti lo vedranno, tutti lo riconosceranno come re, come lo abbiamo contemplato la settimana scorsa, sia credenti che non credenti. Non sarà più possibile non crederci più, perché chi è Gesù sarà evidente e palesato a tutti. Solo che poi Gesù continua a venire, misteriosamente, nella vita dei cuori di coloro che lo desiderano, che gli sono aperti e che lo accorgono. Come lo si fa a incontrare? La prima cosa che bisogna fare è salire sul monte del Signore, immagine dell'Avvento. Nella Bibbia ogni volta che Dio vuole manifestarsi, se ci facciamo attenzione, adesso farò una breve carrellata, porta sempre i suoi su un monte. Dove riceve Mosè i dieci comandamenti? Sul monte Sinai. Dove si manifesta Dio al primo grande profeta, Elia, per rinfrancarlo nella sua missione e confermarlo il suo mandato? Sul monte Oreb. Dove porta gli apostoli Gesù prima della sua passione? Trasfigurazione sul monte Tambor, giusto? Dove fa il grande discorso che quest'anno sentiremo fare, che San Matteo ci riporta nei capitoli 5-7? Si chiama proprio il discorso della montagna, che li porta sul monte delle Beatitudini. A proposito, mi permetto di cominciare a dire, poi ci saranno informazioni più precise, che sta prendendo forma il pellegrinaggio parrocchiale della prossima estate in Terra Santa e sta prendendo una bellissima forma, insomma. Ecco, mi sono arrivate le prime cose. Sarà un viaggio veramente bello, perché sono stato tante volte in Terra Santa. Vi raccomando, anche se non verrete questa volta, prima della morte in Terra Santa bisogna andarci. Perché c'è proprio il contatto diretto, si proprio respira, ecco, la realtà della venuta e della presenza di Gesù sulla Terra. Perché il Signore porta, ci porta sui monti? C'è anche un bellissimo Salmo, no? Che dice, alzo gli occhi verso i monti, l'avremmo sentito qualche volta. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra, no? Potrei continuare ancora a lungo, però non possiamo fare tutta l'omenia con le citazioni bibliche dei monti. Perché il monte? Che cosa rappresenta il monte? Voi sapete che quando si va l'estate, anche che si portano i ragazzi sui campi di scuola ogni tanto, che si prende e si porta a fare una passeggiata, un'escursione in montagna. Generalmente brontolano, si lamentano, sono stanchi, hanno fatto fatica per ricamminare, per rampicarsi su una montagna, comporta un pochino di fatica. Ecco, ma non a caso si fanno fare queste cose ai ragazzi. Perché? Perché il Signore si manifesta sul monte? Perché per salire sul monte dobbiamo fare un pochino di fatica. Numero uno, che cos'è il monte? Il monte generalmente è un posto dove non c'è la confusione che c'è sulla pianura. Nelle grandi metropoli che stanno generalmente in pianura c'è un caos. Se uno se ne va in montagna, cosa trova? Trova la natura e trova un po' di santo silenzio. Allora, se non si crea dentro il nostro cuore il clima del silenzio, cioè un clima di preghiera, e questo ci vuole una fatica per realizzarlo, perché dobbiamo staccarci da tante piccole cose, dobbiamo fare delle scelte, capite? Perché la giornata è fatta di 24 ore. Oggi abbiamo una marea di sollecitazioni, capite? I ritmi della nostra vita sono frenetici, gli orari di lavoro sono da pazzi. Ma poi siamo immersi emotivamente in una montagna di cose. Prima c'era solo la televisione, ora ci stanno 3.000 cose, 3.000 telefonini che ci lasciano in pace, ma quando stiamo in chiesa, poi ci stanno i social network, poi ci stanno i film, poi ci stanno le tecnologie, poi ci stanno i giochi, poi ci stanno una montagna di cose. Adesso arriva Natale, come ogni anno, tutto sarà meno che Natale. Corsa agli armamenti, regali, quicci, brogli, eccetera, eccetera. Era un riambriaco a Natale che non si è mai accorto che è stato il tempo d'avvento, no? Allora, se io vivo immerso in tutte queste cose, come faccio a riconoscere che il Signore sta avvenendo nella mia vita? Perché la venuta che Gesù fa nella nostra vita non avviene, io lo dico sempre ragazzi, voi non incontrerete Gesù, ve lo auguro, ma come state vedendo me adesso? Gesù non verrà da voi in forma umanamente visibile a dire, Francesco, Chiara, Elisabetta, eccetera, volevo dirti queste cose. Guarda, nella vita io da te vorrei che facessi questo, questo e questo, in questa situazione guarda che la cosa giusta da fare è quest'altra, non mi chiedere questa grazia, perché questa grazia non te la posso dare, perché non è bene per te, chiedimi quest'altra. Ci piacerebbe che Gesù facesse così? È certo che ci piacerebbe, sarebbe un pochino più facile, d'accordo? Però Gesù non fa così. La venuta in cui ci ha degnato, diciamo così, di parlarci con voce umana è cominciata duemila anni fa, è durata trenta tre anni e poi Gesù è asceso al cielo. Da quel momento in poi non è che Gesù ci ha abbandonato, ma non vediamo più la sua natura umana. È un po' come nell'Eucaristia, no? Nell'Eucaristia, domanda, si vede la natura divina di Gesù? Qualcuno di voi l'ha mai vista nell'Ostria, la natura divina di Gesù? Com'è che tanta gente non si inginocchia quando si sta alla consacrazione, che non si rendono conto di quello che fanno? Perché non si rendono conto che, quando io dico questo è il mio corpo, perdo il sacrificio per voi, quello è Dio, capite? Tutti quanti i nostri angeli custodi, se li potessimo vedere, stanno tutti quanti prostrati. E alcuni uomini che chiaramente non vedono questa cosa, non c'hanno la fede, stanno lì impalati, capite? Perché? La natura divina non si vede. Nell'Ostria, domanda, si vede la natura umana? Voi l'avete mai visto Gesù? Qualche santo, capite? Miracolosamente, quando il sacerdote alzava l'ostia, vedeva Gesù il bambino, è attestato nella storia della Chiesa. Oppure ci sono stati dei momenti in cui, quando il sacerdote alzava l'ostia, qualche santo ha avuto in visione Cristo crocifisso. Perché quando si alza l'ostia, se lo potessimo vedere, noi vedremmo Cristo crocifisso. Solo che lo vediamo rappresentato per questo che c'è il crocifisso sull'altare. domanda. Qualcuno di voi ha mai visto Cristo crocifisso quando io alzavo l'ostia? Alzate la mano. Voi, bimbi, l'avete mai visto Cristo crocifisso quando io dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi? L'avete mai visto, no? Ecco. Allora, se io non vedo la natura divina di Gesù e non vedo la natura umana di Gesù, ma come lo faccio a sentire? Dove lo incontro? Dove lo si incontra? È un incontro misterioso. Perché Gesù ci parla nel cuore. dentro di noi. Ma per ascoltarlo bisogna fare silenzio interiore. Misteriosamente, Gesù ci parla, attraverso le vicende della vita, attraverso le circostanze, attraverso le prove apporte, ma anche attraverso le cose belle. Una persona positiva che conosciamo, un incontro che facciamo, che ne so, una bella predica che ci sentiamo, una bella persona che conosciamo, capite? Che può essere un aiuto, che può essere un ponte, che può essere un tramite. Sono tante le cose con cui Dio misteriosamente ci parla. Però dobbiamo creare il clima. Ecco il monte del Signore. Allora, che cosa è l'Avvento? L'Avvento dice la Chiesa, guarda, forse dovrei fare un pochino di fatica, ma trova un po' di tempo per te stesso. Stacca qualche spina. Dai spazio. Trova tempo per pregare. Trova tempo per, poi già lo fate, per andare a messa almeno la domenica. Trova tempo per fare un buon esame di coscienza, per fare una buona confessione. Trova tempo per farti qualche rosario. Trova tempo. Venerdì prossimo, per esempio, tutto il giorno il Santissimo Sacramento è esposto in Chiesa. Col silenzio assoluto, perché quei giorni guai a chi entra in Chiesa e fa il turista. Se ce lo trovo, quei giorni, e ce trova, insomma. Dalle nove della mattina fino alle cinque c'è qui il Signore esposto avanti a tutti quanti noi a voglia di fare silenzio, a voglia di trovare un attimo... Capite? Sono tutte quante occasioni. Questo comporta una certa fatica. Ecco il monte. Poi un accenno rapidissimo, perché i tempi sono quasi finiti al contrasto tra luce e tenebre. Cosa dice in due parole San Paolo? Quali sono le opere delle tenebre? Sono le opere di cui ci vergogniamo, le opere brutte, le opere dei peccati. Qualcuno di noi, speriamo di no, orge e ubriachezze, speriamo che ne orge nessuno. Le ubriachezze, speriamo che non ci ubriachiamo né troppo né troppo spesso. Le lussurie e le impurità o i litigi e le gelosie. Non è che qualcuno di noi si vanta e dice ah che bello, io sto litigato con Tizio oppure io sono geloso, invidioso di Caio oppure io sono un grande impuro, un grande lussurioso. Sono cose di cui ci vergogniamo. Si spera. D'accordo? Ecco, Papa Francesco tante volte ci ha detto che non dobbiamo avere paura di vergognarci, soprattutto quando ci confessiamo, perché la vergogna non deve essere tanto la vergogna di dirle a un uomo, cioè un ministro di Dio, le nostre malefatte, ma dovremmo imparare, se avessimo una buona fe, a vergognarci davanti a Dio. Perché prima che lo venga a sapere il confessore, Dio ti ha visto quello che stavi facendo. capito? E è una cosa di cui puoi andare fiero dinanzi a Lui, sì o no. Allora San Paolo ti dice, più opere delle tenebre fai, perché ogni volta che tu fai un peccato, la tua capacità di entrare in contatto con Gesù, di riconoscere le sue visite, di ascoltarlo, diminuisce, perché si fa sempre più buio e al buio non si vede niente. Invece se tu fai un po' di opere buone, un po' di opere belle, un po' di opere sante, il tasso di luce aumenta. Ed ecco qui, chi è che dorme? Dorme chi giace, diciamo così fuori di metafora, in una vita lontana da Dio e piena di peccati. Chi è che veglia? Veglia chi cerca di vivere in grazia di Dio moltiplicando le opere di bene. Però tutto questo non è possibile, evidentemente, in senso non buon evidente di Dio. E questo è un pochino il senso del cammino che la Chiesa ci prospetta in questo tempo. Allora, fidiamo alla Madonna di cui stiamo celebrando la novena, lo faremo anche in questa Santa Messa per l'Immacolata, il nostro percorso in questo senso penitenziale dell'Avvento, ecco, perché possa crescere in questo tempo la nostra vicinanza con Dio e soprattutto la nostra capacità di riconoscere le sue visite e i suoi interventi salvifici nella nostra vita. Siano notati Gesù e Maria. Senza e Spera.